A un anno e mezzo dal sisma, l'Ater di Teramo ha iniziato l'iter di ricostruzione degli edifici popolari lesionati, pubblicando il bando per l'incarico di progettazione dei lavori necessari al ripristino di una singola palazzina di Via Adamoli a Collatterrato. Gli sfollati Ater in provincia sono 1.250 e gli immobili da riparare solo a Collatterrato circa 30. A questo punto gli inquilini sono davvero molto preoccupati. Tra incarico di progettazione e successiva gara d'appalto, il primo cantiere rischia di partire nel 2019 e se la cadenza sarà di uno l'anno, si potrebbero impiegare 30 anni per completare l'intervento di ristrutturazione. Parte la prima progettazione dell'Ater, quindi qualcosa si muove? Speriamo. Tutti questo tempo per la progettazione passeranno secondo me almeno 6-7 mesi, prima che si potrebbe fare una gara d'appalto per i lavori. Quindi inizia un solo palazzo? Un solo palazzo, sì. Un solo palazzo. Gli altri? Quanti sono i palazzi più o meno che lesionati? Con l'atterrato saranno una trentina, tutti lesionati, però ci sono anche dei palazzi con piccoli lavori, dei palazzi dove sono fuori solo 3 persone su 12 e quello non è che ci servono dei grossi progetti. Le famiglie sfrattate adesso come sono sistemate? Sono sistemate in autonoma sistemazione tanti e tanti negli alberghi. Quelli che stanno negli alberghi, Giulianova, Roseto, vogliono risalire a Teramo perché non sentono loro la sistemazione. L'Ater che cosa vi ha detto? L'Ater ha detto che loro metteranno tutte le forze in campo, però noi non sappiamo fino a che punto. Noi adesso chiederemo un incontro al nuovo commissario per darci delle lucidazioni. Non è che ci dicono facciamo il cronoprogramma, noi i palazzi che devono aggiustare li sappiamo. Ma i tempi, noi vogliamo i tempi. Ma sono tempi tecnici, ci sono anche tempi morti. Intanto al posto di Armando Rampini è stato nominato il nuovo commissario dell'Ater di Teramo, Nicola Salini, che non ancora si insedia ufficialmente per motivi burocratici, ma che ha già assicurato un impegno a tempo pieno da dedicare alla ricostruzione.